Come hai conosciuto Gio Bastianich? Ah che bello! Gio ci si conosce da dieci anni e passa Più di dieci anni Io chiaramente sono un super fan di Masterchef all'epoca Per me Gio, tutti loro, che poi l'ho conosciuto tutti Però Gio in particolare era l'imprenditore Quindi è un'altra cosa Sì è vero Mi ricordo era la presentazione di un libro Di un libro, Piazza della Repubblica Mi chiamano i miei ragazzi e mi fanno il passato Gio Bastianich Che scappo Voi via da questa presentazione Non lo ritrovo più Ho detto no Dio Quando mi riavita di rivedere Gio Hai il negozio Nemmeno a farla apposta lo ribè C'è ancora la prima foto nel tuo negozio Quella è una cosa pazzesca per me quella foto Sì perché ha un valore Levando l'antico vinaio di quello che è veramente anche l'amicizia Perché noi ci siamo conosciuti nel 2013 In Piazza Signoria con quel selfie fatto malissimo Cioè che io ero super emozionato E poi da lì mi ritorna a trovare il giorno dopo Io lì ecco Un bambino al parco giochi Un bambino al parco giochi E quindi Tornano il giorno dopo per? Per riveniremo a parlare Ciao Aveva già capito Allora sicuramente ha visto un ragazzo sveglio Che gli piaceva tutto Quello è Da lì a pensare che l'antico vinaio arrivasse là C'è proprio sei anni Quindi per quello dico è sana Perché non è che 2013 ci si vede Poi si parla di lavoro Cioè noi ci siamo conosciuti Imparati a conoscere Ci siamo trovati proprio bene Sul lato caratteriale Proprio di amicizia Quindi prima amicizia e poi business Io sono andato tante volte a trovarla a New York Lui è venuto tante volte a trovarmi E poi da lì Cosa nasce Cosa proprio amicizia sana Fino a che nel 2018 Ma una scena normalissima Ma come sarebbe portare l'antico vinaio in America Va bene Speriamo Bocca Bocchi Che sai che viene fuori Nel 2019 si decide di fare il pop up in America Sì E da lì nasce quello che è l'antico vinaio ora in America Ma io e Gio abbiamo un'amicizia Lo dico sempre Splendida Perché è fatta di lealtà Ora di business Ma anche di amicizia Gio Bastiani c'è socio attivo dell'antico vinaio in America Sì Io 51 Lui 49 Abbiamo voluto fare questa cosa Però sì E io lo dico sempre Li devo tantissimo a Gio Perché Ti anzi ho visto tanto Sì Perché Quando c'è questa cosa Che non è business Perché ora magari Passami il tempo Si parla di business Dell'antico vinaio gigante Tanti negozi Però quando si è aperto Ma guarda Né io né lui Avevamo un'idea Di quello che potesse venire fuori Anche perché Io ho aperto l'antico vinaio in America Che io avevo firmato il mio primo a Milano Poi è venuto il Covid anche lì Però io ero solo a Firenze Cioè quindi Non c'era Cioè non è ora Che tu dici Magari ora tu vanno a me A Forte di 20 negozi Cioè io Gio si è iniziato da zero Cioè quindi anche lui Non sapeva come poteva andare Io Io me che meno Poi io Lo dico sempre Grazie a lui Perché se in America L'antico vinaio è arrivato È grazie a lui Perché noi avevamo Tantissime proposte Dall'America Come tuttora L'abbiamo in tutto il mondo Ma io l'ho sempre rifiutato Proprio perché Come si torna prima Per me il contatto umano Vale più di tanti Contratti iscritti Quindi sicuramente Il fatto di poter Farlo con lui Per me era una sicurezza Che nel bene o nel male Eravamo insieme E poi anche la scelta Dei propri soci È sempre Sì Fondamentale Sì No 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 In un business plan A lungo termine Come quello che può essere L'antico vinaio Sì Su quello Per quello io devo sempre Scegliere Gio ora L'ho scelto E lo scegliere Altri cento volte E lo scegliere